Buongiorno a tutti i professori Buongiorno a tutti 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 Diritti e doveri per ognuno di noi per crescere ed essere in questa terra Quello che fate i costituenti dopo la guerra e le superenti di tanta gente che non si arrete Riposano nelle mani del popolo italiano Diritti e doveri camminano insieme Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti